Abbattere il digital divide e sviluppare la banda ultralarga in tutta la Toscana, questo il tema al centro della tavola rotonda che si è tenuta ieri a Firenze, a cui ha partecipato anche il sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico, Antonello Giacomelli. In Toscana oggi la velocità media di connessione alla rete è di 5 MB al secondo, in linea con la media italiana ma molto lontana dai 30 MB al secondo, che è l'obiettivo da raggiungere entro il 2020 secondo l'agenda digitale dell'Unione Europea. Per questo la regione investirà 100 milioni di euro per portare internet veloce a cittadini e imprese. Abbiamo speso oltre 50 milioni, siamo tra le migliori pratiche in Italia e vogliamo che nel settennato 2014-2020 gli obiettivi 2020 stabiliti dall'Europa siano raggiunti garantendo l'accesso alla banda larga a tutti i cittadini e a tutte le imprese e garantendo anche l'accesso alla banda larghissima, quella più potente, a metà della popolazione a un gran numero di imprese. C'è un piano, c'è un programma, noi ci investiremo 100 milioni e siamo disposti a investire anche di più. Chiediamo a tutti di fare la loro parte, al governo a cui chiediamo di fare un vero e proprio piano operativo nazionale dentro cui devono stare le regioni e anche agli operatori privati perché qualche volta a me capita di andare in giro e di vedere e di sentire che la regione ha fatto l'investimento della banda larga ma manca il collegamento finale, manca il collegamento del gestore e questo non deve più ripetersi. Per sviluppare la banda larga in tutta Italia il governo ha previsto un costo di 5 miliardi di euro che saranno stanziati nel fondo sviluppo e coesione dei prossimi anni. Inoltre saranno varate una serie di misure che andranno dalle agevolazioni fiscali al superamento delle lentezze burocratiche per la messa in posa delle infrastrutture in fibra ottica. Con Rossi dicevamo che occorre forse un appuntamento con gli operatori per incoraggiarli a studiare di nuovo le potenzialità della Toscana e per invitarli a qualche investimento che non guardi sulle prossime 12 mesi. La Toscana è dal punto di vista digitale un'eccellenza in Italia, il governo della regione è un governo attento che vuole scommettere. Chiediamo agli operatori di fare un patto per qualche investimento più deciso sulla Toscana.